Eccoci qua, Urgo Libere! E andiamo signori che siamo nel posto più bello di Marzolam Via Fogli Maria Tempo! Eccoci qua signori, buonasera a tutti Buonasera anche da tutta parte della staff Sette Mari Floriana Laguna Questa sera lo staff di Marzolam avrà il piacere di presentarvi il Camaret Show Dopodiché ci sposteremo direttamente all'interno della nostra tenda peduina Per la seconda serata, chiaramente in onore dell'Halloween Party Buonasera signora, lei già se ne va? Ah, perfetto, grazie e quindi vi aspettiamo in tenda peduina Per ballare fino a tardanotte in compagnia di tutto lo staff Ma soprattutto di colui che si occupa della regia e della musica Quella che è in console in questo momento, Alberto DJ! Vieni albi! Ascolta, lascia fare, perché questa camicia è il team manager E il nostro Simone Rossani che tra l'altro non mi permette di respirare perché mi sta un po' strettina Ascolta, peduino, vado in un deserto a prendere le collanine, grazie Aspetto, dietro voglio la mia camicia, ti raccomando che tanti Bene, sono preparato, ho fatto un pugilato per 5 anni, eh, attenzione Poi se non basta porto dietro anche qualche ospite Qualcuno ha fatto un pugilato oppure lotta greco-romana qua che mi può aiutare? Faccia finta! I pantaloni! Bello, i tuoi pantaloni sono rosa, è impossibile che sono tuoi Quindi, lascia fare, puoi anche tornare dietro E cambiati queste mutande, guarda che schifo I pantaloni sono della costumeria No, non vedi No, non te li do Te li devo dare, vabbè, te li do, eh Troppo non è colpa mia No, è colpa di Simone Rossani Che è mia perché mi fa questi scherzetti Oh, vai Basta perché se no faccio brutte figure Bene signori, quindi siamo pronti ad iniziare il nostro cavale show Vi ricordiamo che avete anche l'appuntamento per domani sera con Hai rotto le scatole, guarda, c'ho delle mutande che fanno cagare Allora, prima faccio vedere le mutande agli ospiti Dopodiché mi dicono loro se posso rimanere mutando o no Bene Ragazzi, mi hai regalato in mano per Natale Eh, per piacere A voi mi va bene che rimanga mutando? Sì! Bambini, domani facciamo un'oscacceca in autostrada, eh Bene, così imparate Altro che club dei pirati, piratesse, compagnia cantante Eh, così imparate Allora, il cabaret è solo per spogliare me, eh Poi dopo andiamo direttamente in teatro Bene, aspetta, mi sgancio qua C'è qualche signorina qua che si offre di spogliarmi? Ma che schifo Io pensavo di venire qua a imbroccare come un pazzo Invece no L'unico che mi trovo qua È un pervertito manioco, un briacone Vai, allora Tanto, cadina anche Bene, sono più bravo a vestirmi io che di spogliarmi Allora, posso anche perisonarmi? Allora, signori Abbiamo dato tutto Come si fa? Però Simone, me lo potevi dire che mi mette una mutana più carina? Accidenta a te Questa è un graffio di qualche ospite che è passata ieri sera sul corpo di Giovanni Giovanni, dovete sapere che lui fa lo spogliarellista Giusto, fa lo spogliarellista di Italia? Sì Bene, in un locale che si chiama? La Blanca Anche Aspetta che mi la volo per l'isola Come si chiama il locale? In tanti locali tra Parma, Reggio e Modena Bene, che sono tutti attualmente chiusi dopo che ci ha lavorato lui Bene, allora Le mutande penso che sia meglio di noi Allora, copriamoci tutte e due Copriamoci tutte e due Rimano a fare le memo insieme a me Caliamoci le mutande Bene, signori Quindi, pensavo io di iniziare a fare un momentino così Invece ci siamo finiti In questo disastro No, stai qua con me Come ti chiamano? Chi ti chiama? Sono brutto sto mare Se sei brutto te, io che faccio? Se volete, signori, un cuscino in più Vi potete depilare E domani ci potete fare il cuscino Ecco, mi dà un sorso di quello che c'è a te È alcolico? No, allora no Ce l'avevo bisogno stasera Bene, signori Quindi siamo pronti a insere con il cameret show Io volevo però aprire una piccola parentesi Ricordandovi che mercoledì mattina alle ore 10 Ci sarà il torneo di beach tennis Offerto dall'MBT Che vi aspetta calorosamente All'interno dei campi del Blue Lagoon Per dar vita a questo torneo misto Tra uomini e donne Grandi premi offerti dall'MBT E ora, signori, pronti a insere con il cameret show